Purtroppo la prima cosa che ho notato è che solo dopo quattro anni la quantità di plastica che si trova nelle reti è aumentata spaventosamente E ovviamente ogni giorno questi uomini separano e raccolgono tutti questi rifiuti e anche se lo Stato non li aiuta e non li incentiva a smaltirli loro lo fanno lo stesso Guardate queste immagini sono del documentario che feci quattro anni fa la plastica è quasi del tutto assente stiamo parlando di luoghi a 20 miglia dalla costa a 600 metri di profondità lì la plastica non dovrebbe assolutamente esserci guardate adesso negli stessi punti cosa c'è c'è più plastica che gamberi davvero è incredibile purtroppo questo reportage inizia così è solo una triste realtà che va assolutamente documentata condivisa e sensibilizzata il nostro pianeta lo stiamo distruggendo se non cambierà qualcosa le generazioni future nuoteranno nella plastica